Buonasera a tutti, sono Andrea Gianni per il Movimento Rete, prima di arrivare all'ultima parte della serata che probabilmente sarà quella più interessante che riguarda le proposte, ma prima di arrivare a capire che tipo di proposte portare all'interno del Paese bisogna cercare un po' di analizzare come funzionano le nostre istituzioni. Faccio mie le parole che ha pronunciato Mirko in apertura, possiamo avere le leggi migliori del mondo, le istituzioni più perfette, anche se non è l'espressione bellissima, più perfette che si possono avere, ma se le malistituzioni sono fatte da persone e se le persone hanno poco spessore purtroppo si prestano a delle distorsioni. Alcune ve le ha già accennate Emanuele, e mi riallaccio proprio alle discussioni che c'è in questi giorni, oggi, sulla legge elettorale, d'altronde è vero che magari i cittadini non sono tenuti a conoscere o a sapere perfettamente come funziona il Consiglio, il Congresso, le regole democratiche su cui si basa il nostro Stato, ma questo non può essere per chi quelle istituzioni le rappresenta. E già oggi sentire, e qui mi rifaccio il discorso delle persone di poco spessore, interventi da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, soprattutto, dove già di loro non riescono a capire, fanno confusione tra elezioni amministrative, elezioni politiche, il potere legislativo, il potere esecutivo. Già con avere una situazione di questo genere si presta al degrado e noi abbiamo delle istituzioni che negli ultimi anni hanno raggiunto in questa legislatura soprattutto un livello bassissimo. E allora andiamo a cercare di capire un po' come funzionano, soprattutto come funzionano i due organismi, quelli principali, il Consiglio e il Congresso. Io con me questa sera ho trovato nel mio archivio cartaceo un paio di cosine, un paio di chicche, che però aiutano un po' a capire il funzionamento del Consiglio. Ho portato qui con me un decreto legge, questo è un decreto legge che è stato promulgato nel 2016, poi arriveremo a spiegare cos'è un decreto legge, ed è un decreto legge formato da ben 75 articoli. Questo non è più un decreto legge, ma è una legge camuffata e perché spesso vengono portati questi tipi di provvedimenti? Nel Consiglio, per dire che è in corso in questi giorni, ne abbiamo ben 19 di decreti in discussione. Siamo a circa in tre anni, abbiamo oltrepassato i 300 decreti e credo di leggi ne sono state promulgate non più di 10-12, tra cui moltissime di uno o due articoli. Ma perché un decreto? Un decreto semplice, grazie a un decreto il potere, quello che dovrebbe essere il potere esecutivo, ovvero il congresso di Stato, un potere che non dovrebbe occuparsi di produrre leggi, ma la sua occupazione principale dovrebbe essere quella di far sì che le leggi vengano attuate e che funzionino. Il decreto serve unicamente per una cosa, per bypassare qualsiasi tipo di confronto all'interno del Consiglio Grande Generale e bisogna capire qual è la differenza tra una legge e un decreto legge. Una legge ha mediamente tre passaggi, viene portata in prima lettura in Consiglio Grande Generale dove c'è già un dibattito, poi avviene un secondo passaggio all'interno delle commissioni parlamentari, che è praticamente un consiglio molto ristretto, a circa oggi le commissioni sono formate da 17 consiglieri e in queste commissioni le leggi vengono discusse, vengono portate emendamenti, migliorie, abrogazioni di legge e via dicendo. Dopodiché una volta che esce il testo pressoché il definitivo della commissione passa in Consiglio per una seconda lettura ed è la lettura che ne sancisce la messa in opera. Questo è un procedimento che mediamente non dovrebbe richiedere più di due o tre mesi per essere attuato, anche perché avendo una struttura abbastanza piccola e snella in teoria dovremmo essere molto agevolati da questo punto di vista. Il decreto legge consente di bypassare tutte queste procedure, quindi cosa succede? Succede che si ha un ufficio di presidenza dove viene discusso l'ordine del giorno, vengono messi i decreti, l'ufficio di presidenza solitamente si svolge cinque giorni prima dell'inizio del Consiglio, il che significa che per studiarsi un decreto come questo che ho in mano da 75 articoli e produrre emendamenti, migliorie eccetera, occorrono in cinque giorni, tra cui fine settimana e mezzo. Capite bene che finché fosse un decreto ad ogni sessione, magari potrebbe essere anche sopportabile, ma quando ce ne sono 19 e quando in questo momento inizia a essere veramente difficile, non solo per i gruppi di opposizione, ma in teoria anche per i gruppi di maggioranza che volessero approfondire gli argomenti, inizia a essere veramente difficile discutere. E questo è sintomatico dal fatto che in questo momento abbiamo un potere esecutivo, ovvero il Congresso, che si è andato ad arrogare qualsiasi tipo di potere. Ci sono sconfinamenti continui all'interno del potere, quello legislativo, quello sì, che dovrebbe essere rappresentato dal Consiglio Grande Generale. D'altronde ci sono ancora persone all'interno del Consiglio che non riescono a capire che la parola Parlamento vuol dire che lì si parla, è lì che si elaborano le leggi e vengono messe in discussione. Qui invece ormai siamo talmente abituati a questa procedura, alcuni, noi spesso, è vero, vengono soprannominati spingi bottone, ma purtroppo è la cruda realtà. D'altronde abbiamo un congresso di Stato che in questo momento si è arrogato qualsiasi tipo di... cioè arriviamo a un congresso che arriva addirittura a stabilire qual è la classificazione dei vini, dove andare a mettere una pensilina o decidere quali monete o francovogli emettere. Capite? È una distorsione immensa, perché di fatto si lascia il potere. In questo momento abbiamo sette segretari di Stato che assomigliano ai sette re di Roma tutti quanti messi insieme, perché d'altronde sono loro che decidono e disfano qualsiasi cosa. L'ultimo esempio è stato con il decreto sulla vendita degli immobili, adesso al di là del fatto che sia giusto o sbagliato vendere immobili, però non è oggettivamente, non si può esautorare il Consiglio dei dodici che è deputato a questo tipo di mestiere e che negli anni è sempre stato sempre più sviluppo delle proprie funzioni, si è bypassato completamente anche questo organismo tramite anche lì il solito decreto, decreto che ovviamente non vede tra l'altro il subito esecutivo, quindi gli effetti dei decreti nel momento in cui vengono promulgati sono immediatamente attuativi, ciò si presta delle distorsioni, perché mettiamo il caso che il decreto X sia promulgato il lunedì 22 luglio, il decreto ha tempo 3 mesi per essere ratificato, ma già i suoi effetti sono in vigore, se il decreto non viene ratificato ha prodotto degli effetti che poi non si riescono neanche a classificare, perché il decreto ha decreto decaduto, come dicono a Napoli, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Capite che anche qui si diceva nei giorni scorsi quello sulle istituzioni sembra un argomento facile, ma in realtà non lo è, è forse l'argomento più spinoso che si possa affrontare, perché qualsiasi tipo di riforma o di modifica non può essere semplicemente come alcune forze politiche intendono, faccio un programma di governo e quello, vincolo elezioni lo approvo, no, non è così sull'aspetto istituzionale, perché è una macchina talmente complessa che nel momento in cui si tocca un qualsiasi tipo di meccanismo inevitabilmente si va ad agire anche su altri tipi di meccanismi, poi dopo ovviamente spesso si sente un intervento di spot, la regenza di garanzia, una regenza che questo è un altro esempio, è forse la massima istituzione del nostro paese e che da parte dei sanmarinesi, i sanmarinesi provano un attaccamento immenso alla regenza, ma è una regenza che al giorno d'oggi per come è stata trattata negli ultimi, non voglio dire negli ultimi anni, ma principalmente negli ultimi anni, è uno strumento che è completamente svilito, già il semplice fatto che si dice la regenza è la rappresentanza di tutti i sanmarinesi, che i due regenti vengono eletti solo dalla parte politica che è in maggioranza, già è difficile di per sé che possa rappresentare tutto l'arco, la cittadinanza intera, ma oggi come oggi la regenza è uno di quegli strumenti che viene utilizzato soprattutto per calmare mal di pancia o premiare atteggiamenti benevoli, perché purtroppo siamo ridotti a questo livello. e quando si parla di regenza di garanzia parte il fatto che dovrebbe essere, si sta usando sempre più questo termine forse perché la regenza di garanzia non è, ma io qui insieme ad Emanuele l'anno scorso abbiamo promosso un sindacato alla regenza perché avevamo ovviamente dei motivi fondati per via di alcune leggi promulgate eccetera, alla fine durante quel dibattito è emerso che sì è vero, i regenti in teoria potevano rifiutarsi di firmare certi tipi di atti, ma in fin dei conti che lo facessero meno non ha nessun valore, quindi quello che ci si chiede oggi come oggi, le istituzioni che abbiamo, tolto quel congresso di Stato che è un qualcosa che sconfina da ogni parte, che valore hanno? Occorrerà cercare di restituire un po' ad ogni istituzione che abbiamo, si è parlato solo praticamente di consiglio del congresso, ma ripeto il consiglio dei dodici, le giunte, qualsiasi tipo di istituzione occorre cercare di mettere in campo un progetto complessivo che per forza di cosa deve essere solo sotto forma di proposta, perché non può essere una parte politica, se questa coalizione domani raggiungesse come ci auguriamo il 51%, non può pretendere di mettere in campo qualsiasi atto di riforma delle istituzioni senza condividerlo con l'intero arco costituzionale, perché sono le regole del gioco e le regole del gioco occorre che siano il più largamente condivise, perché altrimenti ogni maggioranza che cambia tende a fare le proprie di regole. Detto questo, perché già l'intervento è stato un po' lungo, ce ne sarebbero di cose da dire tantissime, poi probabilmente nelle prossime settimane cercheremo anche di organizzare dei momenti di approfondimento, perché ripeto la macchina istituzionale è veramente complessa e è già difficile capirla per noi che ci lavoriamo tutti i giorni, quindi immagino da parte della normale cittadinanza è ancora più difficile. Detto questo io passo la parola a Paolo che cercherà un po' di completare il mio intervento parlando un po' delle proposte che si andranno a fare prossimamente per cercare di rimettere in sesto queste beneamate istituzioni. Grazie.